ministero apostolico profetico della bibbia del missionario evald frank il missionario evald frank da oltre 40 anni ha predicato in più di 130 nazioni egli è conosciuto per aver pubblicato vari libri trattati programmi radio e televisivi il suo reale insegnamento apostolico è apprezzato dal popolo di dio intorno al mondo signore e signori cari fratelli e sorelle in cristo cari amici e il fratello frank che vi parla dal centro missionario internazionale di krefeld germania è sempre un privilegio condividere la parola di dio con il popolo di dio in così tanti e differenti paesi come sapete ho ricevuto una chiamata da parte del signore per andare da una città all'altra da un paese all'altro a predicare la sua parola ea condividere il vangelo di gesù cristo con il maggior numero possibile di persone io guardo indietro a quasi 50 anni nel ministero internazionale e ad ogni modo ho attraversato il limite di 150 paesi dove i miei piedi hanno camminato e la mia voce è stata udita predicando la preziosa parola di dio io credo che le promesse di dio sono sì ed amen credo che dio ha un piano di salvezza e credo che il tempo della grazia ha un inizio e avrà una fine e la sacra scrittura parla del tempo della fine e il nostro signore specialmente in matteo capitolo 24 marco capitolo 13 luca capitolo 21 parla di ciò che sarebbe avvenuto prima della fine del tempo della grazia prima che il signore ritorni per portare il suo popolo a casa nella gloria e amici una delle affermazioni principali si trova in matteo capitolo 24 versetto 14 e questo vangelo del regno sarà predicato a tutte le nazioni e poi verrà la fine oggi in tutta onestà vorrei condividere con voi il tema che concerne il battesimo perché ieri sera ho letto un articolo scritto da un famoso pastore luterano che ha utilizzato romani capitolo 6 e si è riferito a questo passo della scrittura dicendo che è un sacramento in merito ai neonati che sono aspersi con poche gocce d'acqua questo è un battesimo questa è la salvezza quella è la nuova nascita e così via ed ero così triste nel mio spirito e vi dico perché perché oggi tutti in tutte le denominazioni conoscono l'inglese il tedesco l'ebraico il latino il greco tutti sono istruiti e ad ognuno sembra di avere conoscenza e quando si guarda la questione se dio non rivela la sua parola e la sua volontà noi camminiamo nelle tenebre indipendentemente da chi siamo e amici di nuovo per essere sincero perché dovrei seguire una chiesa se andate in una chiesa loro hanno sette sacramenti e quando questa persona che ha ricevuto sette sacramenti durante l'arco della sua vita si riparte da qui a proda nel purgatorio io non ho bisogno di una simile salvezza altri hanno tre sacramenti ma nessuna certezza divina queste cose non sono basate sulla parola di dio e la loro immaginazione e le persone vengono ingannate su tutta la terra le altre chiese hanno 39 punti in cui credono e amici io sono stato su tutta la terra ho anche predicato in egitto nelle diverse città e nelle differenti chiese ho predicato in 14 differenti paesi islamici a vari gruppi della cristianità e amici ora veniamo rapidamente al peso che c'è sul mio cuore a questo tema del battesimo cosa significa in realtà il battesimo a chi è stato ministrato chi è stato battezzato nei giorni della bibbia se considerate giovanni battista al fiume giordano in primo luogo egli ha predicato e poi le persone hanno confessato i propri peccati e poi sono state battezzate per immersione anche gesù cristo il nostro signore ha detto ci conviene adempiere ogni giustizia ed egli è il nostro esempio di ubbidienza e amici quando egli fu battezzato nel fiume giordano per immersione e tirato fuori dall'acqua i cieli si aprirono e lo spirito santo discese e rimase sopra di lui e la voce fu udita questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto amici noi dobbiamo ritornare alla scrittura dobbiamo trovare la nostra via verso gli insegnamenti apostolici io non riceverò né accetterò mai qualunque cosa che non è insegnata nella bibbia ora in romani capitolo 6 leggiamo nel versetto 3 o ignorate voi che quanti siamo stati battezzati in cristo gesù siamo stati battezzati nella sua morte voi tutti potete continuare a leggere gli altri versetti riguarda ciò che un battesimo scritturale significa in realtà e l'apostolo paolo parla di essere crocifisso con cristo di non vivere più la propria vita ma cristo vive la sua vita attraverso di me e amici se torniamo in matteo capitolo 28 e dobbiamo farlo dobbiamo ritornare al principio al mandato per sapere con precisione come le cose devono essere fatte questa è la nostra linea guida in matteo capitolo 28 il nostro signore ha condiviso con i discepoli il grande mandato leggo il versetto 19 andate dunque ammaestrate tutti i popoli innanzitutto dobbiamo ammaestrare tutte le nazioni non dobbiamo battezzare un neonato di appena un giorno o di due settimane no prima di tutto dobbiamo predicare il vangelo dobbiamo ammaestrare tutte le nazioni e poi dobbiamo battezzare coloro che hanno creduto e dopo questo nel versetto 20 insegnando loro di osservare tutte quante le cose posso io insegnare un neonato ad osservare tutte le cose un neonato è a conoscenza di dio o persino del padre e della madre o di ogni altra cosa e poi amministrare la salvezza automaticamente no amici e ancora no ciò è fuorviante e oggi abbiamo le chiese protestanti la chiesa cattolica la chiesa ortodossa e più di due miliardi di persone che vengono fuorviate e questo fa male questo fa male amici noi dobbiamo dire alle persone la verità finché sono in vita perché nel momento in cui ci si diparte è troppo tardi e poi se si pensa a marco capitolo 7 versetto 7 ma in vano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti d'uomini dunque Matteo capitolo 28 versetto 19 in primo luogo dobbiamo ammaestrare tutti i popoli e poi dobbiamo battezzare coloro che credono in Gesù Cristo come loro personale salvatore la stessa cosa la troviamo in marco capitolo 16 dal versetto 15 voi tutti conoscete il grande mandato e nel versetto 16 leggiamo chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato in primo luogo la predicazione poi bisogna credere e in seguito il battesimo chi sulla terra ha il diritto di mettere l'ordine divino fuori dell'ordine chi ha il diritto di avere i propri insegnamenti e poi coprirsi tuttavia dalla testa ai piedi con dei versetti della scrittura facendo sì che le persone abbiano l'impressione che questo sia secondo la parola di Dio e invece non lo è e perciò dobbiamo condividere la verità della parola di Dio in tutta sincerità ora qui leggiamo di nuovo chi avrà creduto e questo è stato scritto dopo che il nostro Signore ha detto andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura a ogni nazione a ogni lingua a ogni tribù e poi chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato se questo non è abbastanza chiaro e poi se andate in Luca capitolo 24 qui nel versetto 47 leggiamo che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti cominciando da Gerusalemme se questo non è chiaro per me lo è poi andiamo nel libro degli atti capitolo 2 dove è stato predicato il primo sermone e poi la parola di Dio ha compunto i cuori della gente non sono stati portati i neonati ma migliaia si sono riuniti per ascoltare la predicazione dell'apostolo Pietro e poi leggiamo in atti capitolo 2 versetti 37 e 38 oressi udite queste cose furono compunti nel cuore e poi venne la domanda cosa dobbiamo fare cosa dobbiamo fare e poi la risposta è stata ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati non è un sacramento non qualcosa che fa un sacerdote o che amministra ma è un'esperienza personale di salvezza con il Signore ricevendo la parola il Vangelo credendo ravvedendosi e poi si è battezzati nel versetto 41 leggiamo quelli dunque i quali accettarono la sua parola furono battezzati e in quel giorno furono aggiunti a loro circa 3.000 persone in primo luogo la predicazione che Gesù Cristo è morto sulla croce del Calvario che Dio era in Cristo riconciliando il mondo con sé che Cristo ha portato i nostri peccati e ha tolto anche la maledizione da noi e ora noi siamo salvati tramite la grazia di Dio credendo in Gesù Cristo il nostro Signore e Salvatore non una salvezza automatica che un essere umano può consegnare ad un altro ma Dio e non c'è altro nome dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati e quello è Gesù Cristo il nostro Signore poi ancora se prendete con me Atti capitolo 8 abbiamo qui nel versetto 12 Atti capitolo 8 versetto 12 ma quando ebbero creduto a Filippo che annunziava loro la buona novella relativa al regno di Dio e al nome di Gesù Cristo furono battezzati uomini e donne quando hanno creduto la predicazione di Filippo allora sono stati battezzati uomini e donne amici questo è il tempo di Dio per il popolo di Dio che ognuno cammini nelle proprie vie ma coloro che desiderano essere pronti alla seconda venuta di Cristo devono allinearsi con ogni parola di Dio per favore ascoltate con attenzione non potete andare nella gloria con le vostre proprie vie con i vostri insegnamenti dovete venire nella via di Dio e dovete entrare per la porta stretta e camminare in obbedienza su questa via stretta per incontrare il Signore quando Egli ritornerà così dopo che Filippo ha predicato e la gente aveva ascoltato e creduto loro furono battezzati poi andate in atti capitolo 10 e qui in realtà dal versetto 38 al versetto 48 trovate il modello preciso la descrizione di ciò e come le cose hanno avuto luogo qui in questo sermone l'Apostolo si è riferito a Gesù Cristo che fu unto da Dio e poi nel versetto 39 e noi siamo testimoni di tutte le cose che gli ha fatte nel paese dei giudei e in Gerusalemme e poi amici la testimonianza esso ha Dio risuscitato il terzo giorno ed egli dà la testimonianza di ciò che era accaduto e poi nel versetto 43 di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome come chiaro il messaggio di salvezza indirizzato alle persone e perciò questo stesso modello è valido oggi in primo luogo condividiamo il piano di salvezza di Dio facciamo in modo che le persone sappiano che c'è una via per incontrare Dio e amici solitamente io dico questo la via di Dio verso noi è la nostra via verso Dio c'è una sola vera manifestazione personale rivelazione di Dio in Cristo non c'è un'altra persona sulla faccia della terra né un profeta né un fondatore religioso ma soltanto Gesù Cristo poteva dire chi ha visto me ha visto il Padre soltanto in Cristo abbiamo la salvezza soltanto in Cristo abbiamo il perdono dei peccati soltanto in Lui abbiamo la vita eterna perché solo in Cristo Dio ci ha visitato personalmente dunque ancora il versetto 44 in Atti capitolo 10 e lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola e nel versetto 48 leggiamo e comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo non è meraviglioso Matteo Marco Luca Atti capitolo 2 Atti capitolo 8 Atti capitolo 10 tutti in armonia ci presentano il piano di Dio e poi in Atti capitolo 19 qui l'Apostolo Paolo trovò alcuni amici che avevano creduto il ministero di Giovanni Battista e quando è arrivato al punto culminante del suo sermone nel versetto 5 udito questo furono battezzati nel nome del Signore Gesù amici potremmo andare in Colossesi capitolo 2 versetti 12 e 13 potremmo andare nelle differenti scritture poi naturalmente in 2 Timotio capitolo 4 che molti avrebbero voltato le spalle alla verità e siccome si sono allontanati dalla verità credono le loro menzogne credono le loro interpretazioni credono le loro favole tuttavia amici non credo che noi intendiamo credere qualcosa che l'uomo ha inventato io credo che Dio vigila sulla sua parola e lo dico ancora una volta prima del ritorno di Cristo tutti i veri credenti devono tornare a Dio devono venire a Gesù Cristo devono credere come dice la scrittura e questo include anche il ravvedimento il battesimo la nuova nascita l'essere condotti dallo Spirito Santo e credere tutte le promesse che Dio ha fatto nella sua parola per favore miei cari amici investigate le scritture e arrivate a comprendere che questo è il progetto di Dio questo è il modello di Dio tornate al Signore e voi direte grazie a Dio e al fratello Frank perché avete ascoltato la verità e avete deciso di seguire Gesù Cristo ravvedetevi e siate battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo Dio vi benedica e sia con voi amén grazie a tutti Grazie a tutti.